Buongiorno, benvenuti al quarto d'ora che precede il telegiornale delle 13.20, siamo in compagnia di Elena Pellaschiar che è la vicepresidente della Confcommercio di Trieste, grazie per essere tornata nei nostri studi. Per affrontare la questione, caro Bollette, è tutto ciò che questa temperie si porta presso dal punto di vista del commercio. Mi pare di capire che quando decliniamo la problematica in questo settore dobbiamo tener conto per forza di cose di tutta una serie di questioni che hanno a che fare anche e soprattutto con la diversità stessa. Quando parliamo di commercio parliamo di settori completamente diversi uno dall'altro e magari se uno frequenta di più un certo tipo di esercizio non si rende conto di tutti quanti i problemi. Certo, ovviamente il rincaro delle bollette è molto più elevato per certi settori, i settori in cui sono molto energivori, pensiamo dove ci sono i frighi, quindi ai pubblici esercizi, ma anche gli alberghi o ai piccoli supermercati. Il rincaro della bolletta energetica è stato molto molto elevato e già si è visto in maniera pesante. Nelle altre attività, come tutti abbiamo anche visto come singoli cittadini, ci sono già stati dei rincari non così pesanti come questo tipo di settore. Ecco, questo poi magari ne parliamo ulteriormente però già per farci un'idea, questo rende più complessa diciamo così un'opera di intervento o una richiesta anche di intervento? L'intervento deve essere diversificato a livello proprio nazionale, Confcommercio in un'audizione alla Camera ha chiesto un credito d'imposta per quelle aziende che hanno questi rincari così alti e comunque per tutti c'è bisogno di una mano, quindi eventualmente se loro agiranno anche sull'IVA sarà sicuramente una cosa che è molto opportuna in questa situazione che è un'emergenza nell'emergenza. Tra l'altro poi ricordiamo l'altra questione, inutile sottolinearlo, si stava cercando di uscire da un periodo già di per sé particolarmente difficile per tutti, ma anche per il comparto del commercio, adesso è venuta questa mazzata della quale avevate avuto già sentore prima in qualche modo o anche voi vi siete trovati un po' diciamo così colti di sorpresa? Assolutamente colti di sorpresa perché ogni anno c'era i roboanti annunci che l'energia elettrica aumenta del 2-3%, ma qui parliamo di più del 40-50, in qualche caso anche del 160%, quindi ha colto veramente tutti di sorpresa e in questa situazione in cui veramente la primavera ci dava un po' di speranza per ricominciare, adesso il 31 doveva finire lo stato di emergenza, quindi i contagi dopo gennaio e febbraio cominciavano a scendere, quindi eravamo un momento veramente di speranza di andare verso una situazione meno problematica, invece di nuovo siamo in una situazione veramente piena di problemi, uno non se la sente di investire in questo momento. Volevo arrivare anche a questo, se mai questo poteva essere anche un momento per immaginare un determinato futuro, è logico che adesso uno prima di fare qualsiasi tipo di passo ci pensa più di una volta. Purtroppo sì, perché ovviamente ci siamo già fatti un piano per questo 2022 che doveva essere un anno migliore rispetto al 2021, sempre nelle problematiche, invece ovviamente adesso siamo tutti che andiamo avanti a vista, si ragiona giorno per giorno, non possiamo programmare perché adesso veramente non sappiamo come saranno i ritorni, quindi i ricavi, gli passi sono veramente molto fluttuanti. Anche perché poi c'è la questione dei clienti, è facile immaginare che, posto che non stia già succedendo, che anche i clienti appunto tendano un pochettino a risparmiare, a spendere meno, anche perché in alcuni casi non è nemmeno un lusso che ci si possa permettere quello di risparmiare, cioè si deve fare proprio, se no non se ne viene fuori. Sì, il potere di acquisto delle persone sta diminuendo perché qualcosa è già rincarato, su certi settori non ci sono rincari, voglio dire l'abbigliamento, le pelletterie, ovviamente non è un problema di adesso, sarà un problema della prossima stagione con i costi dei trasporti, quello lo vedremo, però già ora, a fine mese, le persone hanno meno da spendere, quindi fanno degli acquisti più oculati, non quelli di impulso e ovviamente sono tutti trattenuti anche in questa situazione, ovviamente questi eventi di guerra, sicuramente dal punto di vista anche psicologico, sia dell'imprenditore che del consumatore finale, ovviamente non sono semplici. Avete già sentore di qualche settore che già risente della situazione, al di là di quello che lei ha accennato, per esempio piccoli supermercati, anche alberghi, desumo, ma magari c'è un settore dove già adesso, uso un termine, non è elegante mi rendo conto, dove già adesso si spende meno? No, è tutto generalizzato, tutti hanno, ovviamente per quanto riguarda gli alberghi e i ristoranti, purtroppo con questo afflusso bloccato completamente dai paesi dell'est, abbiamo il problema del turismo dell'est che non ci sarà, quindi già nel momento in cui veramente si stava riprendendo, anche abbiamo avuto comunque dall'Austria venivano persone, quindi tutto il resto invece non verrà, quindi questo sarà una battuta di arresto forte. Per il resto invece è abbastanza generalizzato, non c'è proprio un settore che si è bloccato del tutto, anche perché per fortuna gli interventi che sta mettendo in campo il governo si faranno sentire, ovviamente già è la rateazione delle bollette, perché sono arrivate delle bollette molto alte, almeno già il poterle rateizzare ti rende un pochino più tranquillo, almeno per i prossimi mesi, perché ovviamente se ogni mese, ogni due mesi arriva una bolletta il doppio di quella dell'altro anno, anche la rateazione non è una soluzione finale, quindi contiamo molto sul lavoro che sta facendo anche Fedriga, come capo delle consulte delle regioni verso il governo, che questi aiuti vengano messi in campo subito. A me secca, dispiace persino dover fare la domanda, però già si è letto di soluzioni del genere, è anche probabile che molti per far fronte ai rincari dovranno lasciare della gente a casa. Ma sicuramente non avremo la possibilità di assumere altre persone, quantomeno non potremo assumere altre persone, perché ovviamente non avremo un'espansione del lavoro e del mercato. Abbiamo tenuto duro in questi mesi, con tutto quello che si poteva, ovviamente tutti i contratti a termine in tutti i settori non sono stati rinnovati, quindi vuol dire in questo anno e mezzo, due di pandemia. Però in altri settori c'è bisogno di personale, come quello dell'alberghiero e anche della ristorazione, che si fa difficoltà a trovare, quindi c'è un equilibrio, se uno ha bisogno di lavorare, trova. Allora, proviamo ad uscire un momento dal contingente, anche se è difficile, perché mi rendo conto che è un esercizio di stile, se vogliamo. Però come stava cambiando, mettiamola così, il commercio nella nostra città? Nel senso, ci sono dei cambiamenti per certi versi abbastanza evidenti, sono quelli che anche noi vediamo magari soltanto passeggiando per città, cioè il sorgere magari di un nuovo tipo di negozio piuttosto che di altri. C'era un trend particolare che poi immagino sia già stato messo in discussione della pandemia e forse adesso viene ulteriormente messo in discussione. Non so quello degli alberghi, ecco per esempio come proseguirà. La pandemia ha dato veramente una svolta che non sarà mai più niente come prima. Il grande impatto che c'è stato da subito è stato per i negozi del centro per quanto riguarda lo smart working, tutte le assicurazioni, banche, il comune, tutti gli enti pubblici. C'era un grande numero di persone che gravidava in centro, quindi arrivava lì per andare a lavorare, alla fine del lavoro faceva la spesa nei negozi, a pranzo andava a mangiare nei dintorni, quindi lì c'è stato veramente un blocco tremendo. Poi da non dimenticare la problematica grande che ovviamente si è accentuata in questi due anni, quella del commercio online, che ovviamente ha spadroneggiato, quindi ha colto un po' impreparati i piccoli negozi, ma soprattutto la problematica grande è per questa differenza ovviamente di tassazione che hanno. Questi vuol dire non hanno tassazione, quindi riescono a fare prezzi più bassi, speculano su molti settori, quindi quella è una problematica forte. E per quanto riguarda gli alberghi, ovviamente abbiamo visto che l'altra estate è stata una buona estate, quindi vuol dire abbiamo avuto una ripresa buona, speravano molto di più per l'inverno, invece a dicembre con questo aumento dei contagi, abbiamo avuto di nuovo il freno a mano tirato, quindi ovviamente la programmazione, come si diceva all'inizio, è tendenzialmente molto difficile, ma veramente contiamo che comunque con la bella stagione ci sarà di nuovo l'afflusso di turisti, perché voglio dire abbiamo tutte le potenzialità per accogliere, voglio dire tanto tempo anche noi stessi, voglio dire molti non sono riusciti ad andare in vacanza, quindi non si vede l'ora di fare un piccolo fuori porta o per chi può anche viaggiare nei paesi che sono più facilmente raggiungibili in questo momento. Lei ha accennato all'e-commerce, ai siti online, il problema potrebbe essere anche questo e credo sia oggetto anche di analisi, nel senso che se fino alla pandemia lo utilizzava probabilmente un certo gruppo di persone, magari più giovani, magari anche come posso dire più addentro a determinate cose, è anche vero che con la pandemia più gente ha saputo dell'esistenza di questi colossi e gioco forza ha imparato ad utilizzarli, c'è anche questo, una volta su Amazon compravano quelli che erano proprio fanatici di determinati prodotti eccetera. Adesso che cosa sia Amazon lo sanno un po' tutti quanti. Certo, è stato gioco forza, tutti hanno imparato come bisognava fare, perché ovviamente non potendo uscire completamente, anche bisogna dire il grande sforzo che hanno fatto tutti i negozi, che hanno fatto le consegne a domicilio, quindi c'è stato un nuovo modo di vendere e anche per i negozi normali di abbigliamento, insomma si consegnava a casa dappertutto e quindi questo è stato un servizio che ha messo il negoziante e gli altri hanno imparato come usare più i device elettronici, quindi la digitalizzazione che noi non condanniamo per nulla, perché la comodità di poter avere anche un documento direttamente, ovviamente già online non deve uscire, non deve andare a prendere l'appuntamento per andare in comune, hai già cose che puoi fare direttamente da casa, quello è sicuramente un vantaggio, lo svantaggio è la concorrenza che c'è, ma questo devo dire che adesso c'è stato negli ultimi tempi comunque un rebound, nel senso che il fatto di essere stato tante a casa potrei entrare in un posto fisico, trovare una persona che ti dà un consiglio, il rapporto umano, vedere le cose, ha un valore ancora più grande per il consumatore, venire nel negozi e trovare la persona che vedevi prima, che ti consiglia eccetera, la gente è più contenta, parliamo ovviamente di persone che non sono dei teenager. Ma devo dire la verità, anche persino acquistare un libro ha tutto un altro sapore se lo si acquista in libreria perché lo devi toccare, il libro è la cosa forse più semplice da acquistare online, però lo devi toccare, devi vedere i caratteri, non può essere sostituito a lungo diciamo così da questo perché c'è bisogno. L'esperienza di acquisto sia per avere il prodotto a portata di mano, sia per avere un consiglio, anche in una libreria, sai le librerie in cui ti danno veramente un consiglio e ti conoscono, sanno anche dirti questo uscito sarebbe per te e così in tutti i settori del commercio al dettaglio e in questo tempo vuol dire tutti si sono veramente avvicinati con un altro mood agli imprenditori che fanno questo lavoro. Abbiamo ancora tempo per una domanda, riguarda proprio adesso, insomma non è corretto come termine, comunque le richieste del settore a chi sono inviate soprattutto, mi pare di capire al governo tramite la regione? Al governo tramite la regione, la confcommercio già direttamente a livello nazionale si è mosse, si sta muovendo, quindi vuol dire a chi deve decidere adesso sulle leggi da mettere in campo per abbattere i tributi, gli oneri di sistema che sono altissimi, ovviamente l'IVA e fare questo credito d'imposta. Chiederemo allora che questa sera Ferdinando Avarino rivolga anche questo genere di domande al Presidente della regione Ferdinando, Massimiliano Fedriga, che sarà ospite di Ring in apertura, quindi si discuterà anche di questo sicuramente. Allora io ringrazio Eliana Pellaschiar che è Vice Presidente della Confcommercio, grazie davvero, buon lavoro, mi raccomando. Grazie a voi, grazie dell'invito e venite a trovarci nei nostri negozi. Vi ricordo che dopo la pubblicità c'è il telegiornale delle 13.20, ma già che ci sono vi ricordo anche l'appuntamento delle 17.30 con Trieste in diretta, oggi parleremo di libri e di caffè, quindi insomma due piaceri, uno diverso dall'altro, ma altrettanto, come dire, gratiti soprattutto in città. Grazie ancora Vice Presidente per essere stata con noi, pubblicità e il telegiornale. Grazie a voi. Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre ancora parlando di Cabinovia, il comitato contrario alla realizzazione del progetto Porto Vecchio Carso ha presentato stamani un dossier contenente tutte le ragioni del no al progetto. Il documento spazia dai danni ambientali e geologici agli aspetti economici. Con la presentazione del dossier tecnico intitolato Le ragioni del no a Lovovia, il gruppo dei contrari all'opera ha approfondito oggi le motivazioni di opposizione al progetto. Alla stesura del documento, 38 pagine che sono pubblicate sul sito novovia.it hanno contribuito 12 esperti, componenti il comitato tecnico-scientifico del fronte del no, di diverse discipline, economia, giurisprudenza, tutela ambientale, geologia, ingegneria, trasporto pubblico e pianificazione urbana. Il problema della partecipazione in primis su scelte così importanti, il problema del costo economico di questa infrastruttura, nei costi soprattutto di sua gestione, il fatto che non dà una risposta al trasporto pubblico perché non è un trasporto pubblico di massa, il fatto che distrugge e altera un equilibrio ecologico in una zona di Natura 2000 unica che va conservata, lo sfregio al patrimonio architettonico industriale del Porto Vecchio. Diversi quindi gli spunti affrontati nel dossier, come per esempio le giornate di vento che secondo l'analisi porteranno a un numero di giornate di fermo di 40-45 giorni all'anno rispetto alle 30 previste nel progetto preliminare, ma anche il tema dei costi, la cui analisi economica ha evidenziato la mancanza di un piano economico finanziario organico per il periodo di esercizio e come l'opera produrrebbe un deficit di 26,5 milioni di euro nell'arco del periodo di vita utile all'infrastruttura, tutti a carico dell'ente pubblico. Tutto si riesce oggi a fare con la tecnica, ma quanto costa questa cosa, quanto incide? Ma non solo in termini economici e finanziari, in termini anche di arrecare danno all'ambiente perché le misure di mitigazione, abbiamo visto tanti progetti, inutili distruggere da una parte e mettere alberi da un'altra parte. Manteniamo l'ambiente che c'è, quindi da questo punto di vista speriamo con questo contributo che diamo, di chiarire meglio e di sollecitare anche un confronto più nel merito. La Regione intende porre una modifica alla legge che regola gli sconti sui carburanti per evitare la fuga dei cittadini oltre confine per fare il pieno. Ne ha parlato questa mattina a Sveglia Trieste l'assessore regionale Scocci Marro. Io sto, purtroppo i tempi ci hanno un po' travolto, sto mettendo in cantiere la nuova legge sui carburanti per la nostra Regione, questa legge prevede anche una fascia 0, però oggi non c'è, diciamolo subito, questa fascia 0 confinaria a 10 km dal confine, questa è una proposta di legge, non è una legge, vai a pagare la benzina mese per mese cercando di parametrarla al prezzo della concorrenza, quindi evitare il turismo del pieno. La Regione lavora dunque a una nuova legge sui carburanti, secondo l'assessore all'ambiente Fabio Scocci Marro, le novità per la fascia confinaria, che maggiormente risubisce la concorrenza dei distributori sloveni, darebbe una mano in più ai cittadini a far fronte al caro benzina in aggiunta ai provvedimenti previsti dal Governo. Vado a verificare se anche la nostra Regione, parlo con il Presidente Fedriga, si potrà fare velocemente, modifica la legge, quindi io conto di dare una mano sostanziosa, c'è l'aggiunta Federiga, io come assessore all'energia, di dare una mano sostanziosa ai cittadini. Non so se riusciremo ad essere concorrenziali con la Slovenia che ha fissato un tetto di 1,5 come prezzo. Il nodo da sciogliere dunque è raggiungere la concorrenzialità con l'offerta slovena, la proposta di legge dovrebbe vedere la luce in tempi relativamente brevi. Questo oggi non c'è, però stiamo lavorando alle norme finché si possa, parliamo di giorni e settimane e non mesi o anni, di andare ad avere un prezzo concorrenziale. Oggi non lo è, purtroppo con lo sconto che noi facciamo della benzina siamo comunque a una differenza enorme, in certi casi anche 50 centesimi al litro. Collegamento con la sala operativa della polizia locale, ci aspetta il commissario Fulvio De Grassi, buongiorno. Sì, buongiorno Bosassi e lei e tutti i telespettatori. Cosa ci segnala? Niente di particolare rispetto a quanto già comunicato stamattina, per fortuna in mattinata non è accaduto niente di particolare, qualche incidentino senza gravi effetti, per fortuna nessun tipo di rallentamento del traffico. Per il pomeriggio in volta alle 14.30 l'incontro di caccio della Triestina, Stadio Rocco, potrebbero esserci ovviamente dei rallentamenti, anche se l'affluenza ultimamente non è delle più copiose. Continuano i lavori di asfaltatura questa sera in via Fabio Sovero, attenzione ai divieti di sosta temporanei e anche in via Zonta e via Torre Bianca dovrebbero essere stati apposti dei segnali di divieto per il 18 marzo prossimo 21, perciò attenzione, ripeto, Zonta Torre Bianca. Al momento il traffico, da quanto posso vedere, il telecamere è tranquillo, non abbiamo un particolare interventinato, quindi vi restituirei la linea. Grazie Commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Breve ma solenne cerimonia questa mattina in Piazza Unità. Il 17 marzo, pochi lo sanno, si celebra la ricorrenza dell'Unità d'Italia, istituita già nel 1911, poi definitivamente nel 2012, per ricordare il giorno del 1861, quando l'Unità del Paese, seppure allora incompleta, venne proclamata ufficialmente. Presenti le autorità civili, la piazza che ha portato l'omaggio del Comune ai funerali di Dario Rinaldi, era sostituito dal Vice Sindaco Serena Tonel, presenti le autorità militari, si è proceduto con l'alza bandiera, a sua volta preceduto dell'arrivo del gonfalone cittadino, omaggiato anche al termine dell'ascolto dell'inno nazionale. Dopo aver liberato il giardino pubblico da una lotta tra bande di spacciatori, i carabinieri hanno arrestato un pusher latitante armato di pistola. La piazza remunerativa dello spaccio di droga nel giardino pubblico correva il rischio di essere insediata da una banda rivale e per tutelarsi, oltre al panetto di droga per i clienti, girava con una pistola per garantirsi la supremazia territoriale. Lo spacciatore, un 42enne romeno, dopo il blitz dei carabinieri che avevano liberato il giardino pubblico dallo scontro tra bande, risultava però latitante. Nei giorni scorsi l'uomo è incappato in un controllo del nucleo radiomobile di Aurisina. Questa volta viaggiava a bordo di un pullman di linea, perché, come risultato dagli accertamenti dei militari dell'arma, il suo furgone si era guastato durante il tragitto. Lo spacciatore deve scontare un anno, otto mesi e 29 giorni di reclusione, per spaccio di stupefacenti e possesso di arma clandestina. I carabinieri lo hanno così condotto al carcere del coroneo, dove sconterà la sua pena. Questa sera, come ogni giovedì, primo appuntamento settimanale con Ring, in diretta a partire dalle ore 21, Ferdinando Avarino come sempre sulla plancia di comando, fra gli ospiti vi segnalo un'intervista proprio all'inizio della trasmissione con il Presidente della Regione, Massimiliano Federiga. Ad è stato particolare curiosità, è generato, ma detto anche questo, più di una battuta fra il serio e il facetto, la presenza lungo le libe di due unità militari. Il vice sindaco Serena Tonnel ne ha ricevuto oggi in municipio i comandanti Anwar Melchi, Neji Ben Saada e Mehdi Sharawi. Si tratta di due navi scuola della Marina Tunisina, che svolgono una campagna di addestramento dei cadetti a bordo, che ha compreso un viaggio croceristico dalla Tunisia alla Grecia fino a Trieste e ritorno. La sosta operativa in città in tutto quattro giorni sarà l'occasione per visitare Trieste e i luoghi più caratteristici, a cominciare dai musei e dal castello di Miramare. Rivolgendo un caloroso benvenuto ai comandanti, il vice sindaco Tonnel ha illustrato loro le opportunità della città e del territorio, gli importanti investimenti nella logistica e il rilancio del porto croceristico, ricordando anche gli importanti rapporti commerciali con la Tunisia. Quest'anno ITS compie 20 anni di attività, oggi la presentazione in regione delle iniziative. Celebriamo tre eventi importanti, la ITS 2022, il ventennale e l'anteprima di ITS Academy. Mesi di intenso lavoro attendono ITS, il contest che negli anni ha promosso le carriere di giovani design di talento che nel frattempo hanno assunto ruoli apicali nel mondo della moda. I direttori creativi di Valenciaga, Iceberg e Bottega Veneta, tanto per citarne alcuni, sono passati per Trieste. E dunque il contest quest'anno si terrà il 9 e il 10 settembre al Salone degli Incanti, messo a disposizione gratuitamente dal comune. Le iscrizioni si chiuderanno l'8 maggio. Presentando le iniziative, Barbara Franchino, fondatrice e direttrice, ha paragonato ITS ad un'arca che ha trovato casa. Arcademy dunque, spazio espositivo ed accademia, sarà infatti collocata nel palazzo che ospita la fondazione CR Trieste e che dunque custodirà una collezione composta da 14.359 portfolios, 1077 oggetti di moda, 160 accessori, 118 gioielli e oltre 700 progetti fotografici. E non sarà qualcosa di statico. Presento un punto di incontro, non solamente di persone che arrivano da tutto il mondo a vedere l'archivio storico, ma c'è questa possibilità incredibilmente importante di creare un lavoro per alcuni giovani quando ITS comincerà a mostrare cosa si può fare nella moda agli studenti triestini e anche da fuori regione. La regione sostiene ITS che diventerà a sua volta fondazione e che dunque ora raccoglie i frutti di un lavoro costante negli anni mai chiuso in se stesso e sempre aperto, alla città ma non solo. La volontà, la convinzione della bontà del proprio progetto, le capacità di Barbara Franchin hanno frantumato qualsiasi ostacolo e quindi il cuore è stato lanciato ben oltre l'ostacolo perché gli ostacoli li ha battuti. La forza di ITS è di essere vero, credibile, siamo innamorati di quello che facciamo, siamo tenaci per questo ed è un progetto collettivo, non è un gioco nostro ma è un progetto di tante tante persone che partecipano affinché questa cosa si realizzi. Dopo più di trent'anni torna sui palcoscenici italiani la piccola bottega degli orrori. Il musical ritrova Giampiero Ingrassia in una versione riveduta e scorretta che ieri alla prima è piaciuta al pubblico del Rossetti. All'origine di tutto un vecchio film in bianco e nero di Roger Corman con un giovanissimo Jack Nicholson, quindi negli anni Ottanta la prima versione del musical da esso tratto, cui fece seguito un altro film diretto da Frank Oz. A più di trent'anni dalla prima versione italiana datata 1989, la piccola bottega degli orrori torna sui palcoscenici del nostro paese e ritrova Giampiero Ingrassia nel ruolo del protagonista, Simur, commesso di un piccolo negozio di fiori che stringe un patto col diavolo nelle sembianze di una pianta carnivora che gli procurerà denaro e fama ma anche più di un problema. E' piaciuta ieri alla prima la riproposta di un musical colorato e bizzarro, non fosse altro per la mancanza degli etofine, ancora sorprendentemente fresco nonostante il passare degli anni. Merito certamente di un protagonista a sua volta fresco e inossidabile, supportato da un cast che funziona. Da Fabio Canino a una spumeggiante Beglia Martin nel ruolo dell'innamorata, ad Emiliano Geppetti nel truce macchiettone del dentista sadico che strappa risate in barba la politica di correctness. Ma la vera forza dello spettacolo, più che nelle musiche e nei brani firmati Alan Menken prima della Sirenetta o La Bella e la Bestia, sta nella scelta di far interpretare il ruolo della pianta carnivora ad una drag queen, Lorenzo Di Pietro, in arte Velma K, anziché affidarsi ad un pupazzo come accadeva nella prima versione. Ne esce dunque uno show che forse risolve con meno fantasia di quanto si possa pensare gli snodi narrativi del sottofinale e che comunque adempie più che brillantemente al proprio compito nei riguardi della Band of Brothers che siede in platea. Andiamo al meteo, vediamo intanto quello che succede, la presenza di una depressione sull'Europa orientale e di un anticiclone sulle isole britanniche che determinerà sul Friuli Venezia Giulia per alcuni giorni l'afflusso di correnti nord orientali. Per domani dunque si prevede sul Friuli Venezia Giulia cielo in genere variabile, per velature anche spesse, probabili schiarite verso sera, soffierà bora moderata in pianura sostenuta sulla costa specie a Trieste. Vi ricordo allora alle 21 l'appuntamento con Ring, andiamo a ritroso, alle 19.30 il telegiornale della sera e alle 17.30 l'appuntamento con Trieste in diretta. Buon pomeriggio e a più tardi.